Allora, mettiamo adesso la proposta di l'invito, possiamo essere formato dal consigliere Scenadino e dal consigliere Toreano, che è stato in caso. Chi resta seduta a prova con la proposta di l'invito, chi resta seduta a prova con la proposta di l'invito, chi si alza a mano a prova con la proposta di l'invito. Grazie.